C'è qualcosa di più, perché il fatto che le celebrazioni per i 40 anni dalla morte di Berlinguer, oltre che con la tessera che le ha dedicato Elish Line, inizino in una manifestazione di Fratelli d'Italia, addirittura con una standing ovation, è un significato che, al di là delle botte e delle cose di cui abbiamo parlato prima, in realtà una pacificazione è possibile. Io sono convinto che, al di là del fatto che sono acerri menemiche, ma acerri menemiche, fra Elish Line e Giorgia Meloni, c'è l'intesa di appartenere più o meno alla stessa generazione, Elish Line è molto più giovane, ma l'idea di voltar pagina, di non tornare a parlare ogni 5 minuti di H a Larenzia, di saluti romani, quindi Giorgia Elli, chiamiamole per nome, no? Giorgia Edel, ti piace questa idea di chiamare per nome? Con uno svantaggio che quel partito che ben conosciamo, il partito democratico, ha impedito a Elish Line di spiegare completamente questa cosa. È stato un atto feroce, con cui, con varie scuse contraddittorie, tra l'altro con il loro passato, quasi all'unanimità hanno impedito che si voltasse pagina anche nel partito democratico. Questo è stato molto grave. Hanno frenato Elish, sostanzialmente. Io sono convinto che Elish Line ce la farà ugualmente, però non dimenticherò facilmente questa sollevazione generale, senza eccezione alcuna, perché io non ho letto di una voce, a parte Chiara Braga, le persone più vicine, autenticamente più vicine a Elish Line. Non l'avete uno dei vecchi che si alzasse a difendere, dicendo, ma adesso è il suo momento. No, anzi, il contrario. Sono tutti arrivati da Prodi a D'Alema, tutti insieme a dire che così si deturpava il partito. Con il risultato che tutti, persino Calenda, persino Renzi, per non dire di Tagliani, per non dire... Tutti si presentano con il loro volto, l'unica a cui è impedito, tranne che nelle isole, povera disgraziata, Elish Line, o nel centro e nelle isole, Elish Line. E' stato un episodio, mi auguro l'ultimo, in cui l'apparato si è stretto per impedirle. Perché vedi, Elish Line prenderà un punto in più, due, ma non quei dieci o venti, ma è meglio un punto in più che un punto in meno. Perché concentrarsi all'unanimità per fare questo dispetto? Perché dicono un po' fuori dalla storia, dalla tradizione del partito. Io ricordo, c'ho davanti una bandiera. Grazie. Grazie.